Ciuff, 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 ciuff. Il trenino fa ciuff, ciuff! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Apex in cui, come avrete capito immagino, andremo a giocare una partita in Winter Express, ma prima di tutto, pacchettino. E sì, avevo detto che avrei perso questa abitudine, ma... non ancora. Però potrebbe essere l'ultimo, quindi godetevelo. Ma sapete che triste sarebbe trovare l'Heirloom in uno di questi pacchetti di inizio video e non nella serie verso il prossimo Heirloom? Non ci avevo pensato, speriamo di non trovarlo. Acquista uno per cento monete, che tanto le monete ce l'abbiamo. Apri pacchetto Apex, troveremo mai qualcosa? Bianco, blu, bianco! Oh sì! Materiali! Quello blu non è neanche uno robo di materiali, ma è un contatore per Horizon. Va bene, come sempre. È vostro compito e dovere risollevarmi il morale da questo pacchetto sceno lasciando un mi piace. Dopodiché iscrivetevi al canale, passate su Instagram e Twitch. Tutti i link in descrizione o nel primo commento in evidenza vado in live solitamente ogni sera dalle 21.00. Ma oggi invece ci andrò alle 18 incredibile per altre variazioni d'orario, seguitemi su Insta. E sì, giocherò con i sub di Twitch nella mod del treno. Probabilmente poi nei prossimi giorni lo farò di nuovo perché oggi non c'è troppo tempo, ma vedrò di aggiornarvi. E andiamo a cercare una partita. Non gioco ad Apex da tre giorni, sarà dura. Va bene, siamo pronti più o meno? Ah, Winter Express con i random, sarà un'esperienza mistica. Vediamo un attimo chi dobbiamo prendere. Io solitamente scelgo la leggenda in base all'odout, non in base all'abilità. Anche perché se la scegliessi in base all'abilità andrei sempre su Caustic. Che però... Oddio, Caustic, carabine e mozza con op-up. Non è male. L'altra classe che mi piace è che è l'Mlock R99, ce l'avrete, non possiamo prenderla. Bangalore, Chalvolta, Octane A, Devotion. Via! Proviamo questa. Mai usata, eh, quindi sarà tosta. Allora, non siamo i campioni, quindi non si parte da sopra il treno. E questa è una cosa assolutamente positiva. Una cosa che non è positiva è che non abbiamo armi da lontano. Quindi dobbiamo... Dobbiamo, dobbiamo pushare i diretti praticamente. Il 90% delle classi un'arma da lontano ce l'ha, perché c'è la classe con l'Mlock, la classe con l'Ombu, la classe con Radius, la classe con G7. La classe con qualsiasi cosa. Mentre noi abbiamo P2020 e Devotion. Ma ne ho visto uno qua, forse. Cosa stai facendo? Stai cercando i funghi dentro al container? Ma soprattutto, perché sei qua? Da solo, soletto. Allora, ne ho visto uno. Ok, gli alberi hanno l'hitbox, buggate, state attenti. Ci sono morto infinite volte per questa cosa. Magari lo aiutiamo, o lo aiutiamo, o non lo aiutiamo. Esci dalla bolla, dai. Ed esci dalla bolla. Ed esci da sta bolla, che palle. Madre mia. Vediamo se riusciamo a gestirci questi. Ma li ho sentiti sopra? Ok, a te l'ho visto, ma... Non sei un problema. Ah, ma ho i due compagni morti. Ah, ma c'è un bloody camperato qua, che non aveva visto mai nessuno nella vita. Ho due di vita contro due persone full. Se devo essere onesto, la vedo abbastanza dura. Quante granate avete? Vediamo un po'. Carrozza centrale, no? Uno lo abbiamo preso. Il problema è che erano due. GB, Vrate, un po' di impegno, di cazzim. Io sono pure la prima partita, sono mezzo addormentato. Dovete fare, dovete fare. No! Tu che vuoi? Karma c'ha questo shall vault. E io non ho ricaricato. Ti amo! Amico mio, mi hai salvato. Contendete, fate qualcosa. Ottimo. No! Ciao, life! Ciao, life! Amore mio! Ma mi devi proprio lendare così addosso, tu? Ho fatto qualcosa di male? Ho fatto qualcosa di male? Schimi! Grazie, Vrate, per il supporto morale. Si stanno fightando diversi qua. Oh yeah! Ma scusami. Quanti siete? Quanti? Quanti siete? Quanti siete? Qualcuno lo prende, One, vi prego! Ah, la Vrate è morta male. E abbiamo vinto un round, così. No, non voglio essere busciato a tre persone, via! Ho capito che abbiamo vinto un round e tutto, ma non dovete essere così vendicativi. Dai, almeno uno! No! Ah, ma quindi vale ucciderli e non lasciarli one shot. Incredibile. Io questo round lo vorrei perdere, se devo essere sincero. Perché vorrei far durare la partita un pochetto di più. Se possibile. Sono una brutta persona, eh! Cioè, se dovessimo perdere, me ne assumerei assolutamente tutte le colpe. Ma più dura la partita, più kills si fanno, più ti diverte. Siamo a due punti, perché devi fare il terzo? Granatina in predict là. Ma sai che quasi quasi... Sì, l'ho colpito, gli ho fatto dieci, però. Piccolo dettaglio. Ne hai uno sopra. Così. Per farti sapere. Ne abbiamo uno sopra. Nooo, maledetto. Ma dov'è andato? Che vittoria triste. Ma ne farò un'altra. Abbastanza triste. Pur regalando il round prima. 3 a 1 a 1. La potenza di random. La verità che si è trasformata in un blowdown da metà partita. Il cibo che invece è rimasto fedele alle sue origini. Campione dell'arena. Ok. Prossima partita che magari, anche senza il magari, giocheremo con un loadout diverso. È il turno di Bangalore, perché Bangalore ha il vault col caricatore viola, e il vault col caricatore viola va utilizzato almeno almeno una volta per video. Ma... L'ho fatto qualcosa di male? Fammi un attimo capire. Ma ne hai uno da te! Amico mio. Bravissimo. Un team è morto completo. Queste trappole sono nostre. Ciao, cara! L'altro l'avevo sentito... Yeah! Ti prego, muorici! Ma mi sa che c'è pure il compagno suo? Sì. Allora, movimentiamo la cosa e proviamo a restare sopra il treno, così ci prendiamo gli assalti degli altri con 18 granate. Il bello è che 18 granate non è un numero a caso, perché tre a testa per sei persone potenzialmente se resti sopra il treno ti possono arrivare 18 granelle. E non è simpatica come cosa. Ma... Albero di Natale assassino gli ha ucciso il mio compagno! Io l'ho sempre detto che gli alberi sono pericolosi. Oh, ma sei tornato. Ciao, amico. Com'è stato visitare l'aldilà? Secondo me è andato all'aldilà e il diavolo gli ha tipo riso in faccia. Tipo... Ah, coglione! Ti sei fatto uccidere in un albero! Ed ecco che inizia lo spam di granate. Nessuno ce lo contende veramente? Ah, ok. Tu cosa vuoi? No! Di quanto non l'ho sticcato! Vai, vai. Abbiamo le granate? Usiamole! Usiamo anche l'ultimate così tanto non la userò mai! Perché tu dovevi buttare questa però? Perché dovevi buttare quella roba? Basta! Cosa sta succedendo? Quanto dura l'ultimate di Horizon? E dove sono gli altri soprattutto? È ancora conteso il treno? Ma la rating fail è la nostra? C'è ancora gente viva! Ma veramente? Ah, quello che stava sopra sta ancora sopra. Te lo fai? Ma sei forte a livelli estremi. Vieni un attimo. Io voglio capire come c'è morto questo. Devo fare dei test per la scienza. No, la vedo dura. Sei un eroe? Allora, qua sotto sicuro c'è qualcuno. Anche qua sopra sicuro c'è qualcuno. Quei là? Chi spari? Sei il campione! Che triste! Che triste! Questa partita è durata 4 round? O solo 3 addirittura? Mi sa che è durata 3 round. Ho un vuoto di memoria ma mi sa che l'abbiamo vinti tutti. Infatti 5 minuti. Va bene, siamo soddisfatti. Tanto la partita 4k più danni l'abbiamo fatta nell'altro video. Qua possiamo fare schifo. Allora, se il video vi è piaciuto e se siete arrivati fino a qua vi è piaciuto, vi rinvito a lasciare un mi piace ma soprattutto se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al canale. Vi ricordo anche che questa sera Android Live dalle 18.00 fino a ora di cena circa. E basta, vi saluto. Quindi buona serata a tutti. Ci vediamo presto. Ci vediamo in un prossimo video. Ah, e se non avete altro da fare, nelle schede trovate altri video su altri giochi carini. Se non li avete guardati vi consiglio di dare un'occhiata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.